Seguire procedure già collaudate da altri per garantirsi rimborsi per visite mediche mai sostenute all'estero e che in un anno potevano arrivare fino a 15.000 euro. 15 persone, tutte appartenenti a un'associazione napoletana di trapiantati epatici, sono state arrestate con la concessione dei domiciliari per motivi di salute e altre due sono state colpite dal provvedimento di obbligo di dimora perché coinvolte in un'inchiesta della sezione reati contro la pubblica amministrazione della procura di Napoli coordinata da Francesco Greco. Le indagini dei carabinieri del Nass hanno messo in luce un sistema messo in piedi dai trapiantati, teso a truffare il sistema sanitario nazionale e falsificare documenti. L'ammontare della truffa sarebbe di oltre un milione di euro con rimborsi di circa 2.000 euro al mese. L'indagine ha messo in luce anche casi molto particolari, venivano rimborsati come viaggi per controlli medici ma in realtà in alcuni casi erano solo soggiorni di piacere a Parigi e anche a Capodanno. I carabinieri hanno sequestrato numerosi documenti e timbri falsi che venivano utilizzati per truffare le ASL. In molti casi facevano risultare di recarsi in Francia in Vagon Lì, il cui biglietto di prima classe costa 720 euro, ma anziché il biglietto originale che non veniva mai emesso consegnavano all'ASL il ticket della sola prenotazione che costa pochi euro. Il LCT è stato accertato, si protraevano da almeno tre anni.